In questo mese ho avuto la possibilità di provare il Huawei P50 Pro ed ero piuttosto curioso perché l'ultimo smartphone della casa cinese che avevo testato era stato il P30 e quindi un po' di tempo fa ma soprattutto più o meno nel periodo in cui c'è stata la controversia con gli Stati Uniti che poi ha portato Huawei ad arricchire il proprio ecosistema di servizi e a presentarsi diciamo come un'alternativa se vogliamo al tipico Android di Google ed ero anche molto molto interessato al comparto fotografico. Quindi vediamo un po' com'è andata iniziando dalla confezione molto gradevole del design subito con all'interno anche una custodia semplicissima di quelle trasparenti in silicone molto utile però da avere perché appena ci arriva lo smartphone possiamo subito proteggerlo e poi abbiamo tutto il tempo di sceglierne un'altra qualora dovessimo preferirlo. Poi abbiamo un cavo per connessione e ricarica come vedete non l'ho neanche aperto e poi anche un alimentatore molto interessante perché è da 66 watt quindi ricarica veloce ma siccome il P50 Pro supporta la ricarica wireless ho sempre adoperato quella che trovo molto comoda onestamente nel quotidiano. Parlando di prestazioni ovviamente andiamo benissimo perché abbiamo uno Snapdragon 888 con Adreno 660, 8 gigabyte di RAM e poi 256 gigabyte di archiviazione. Non ho mai visto rallentamenti sempre molto fluido reattivo insomma sicuramente uno smartphone che dal punto di vista delle prestazioni non dà nessun problema e ci offre anche la possibilità volendo di giocare insomma fare tante altre cose senza avere limiti da quel punto di vista. Vado un po' rapidamente su quello che riguarda la ricezione, le chiamate perché non ho avuto veramente nessun tipo di problema anche dal punto di vista dell'audio e anche le connessioni sono comunque ricche perché abbiamo il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC tutti i vari sistemi di localizzazione insomma si potrebbe dire che non manchi veramente nulla ma no in realtà una cosa manca ed è il 5G perché stranamente Huawei insomma ha preso questa decisione di fermarsi al 4G nel suo top di gamma in un momento storico in cui vediamo che il 5G viene inserito anche nei smartphone di fascia medio-bassa dal mio punto di vista non è un problema nel senso che io non l'ho vissuto come un problema e non lo vivrei come un problema avendolo come mio smartphone principale però è una mia personale considerazione mentre invece se si deve analizzare il dispositivo in modo oggettivo il 5G rimane secondo me una mancanza da sottolineare. Dal vivo si nota subito l'ottima qualità costruttiva e quindi materiali, finiture, tutto assolutamente da top di gamma pesa circa 200 grammi che non sono pochi ma devo dire in mano non dà fastidio e poi una nota di merito almeno dal punto di vista del design per questa finitura golden black davvero bellissima, molto molto elegante sembra uno specchio scuro ma il problema è che si macchia veramente in un attimo con le ditate quindi perde un po' del suo fascino abbastanza in fretta a meno che non siate continuamente a pulirlo frontalmente abbiamo il sensore di impronta in basso di tipo ottico che devo dire si comporta bene anche piuttosto veloce e poi giusto un foro in alto per la fotocamera frontale il resto è tutto schermo 6,6 pollici un AMOLED di buona qualità con neri assoluti, ottimi contrasti, belli anche i colori a 120 Hz per quanto riguarda la frequenza di aggiornamento quindi molto molto fluido praticamente in tutto e un aspetto che non mi piace moltissimo è soltanto il fatto che di lato sia leggermente stondato una caratteristica che è esteticamente anche carina seppure con alcune luci incidenti possa far rendere un po' poco visibile proprio le zone esterne dello schermo ma devo dire che continua a non piacermi molto come soluzione perché in realtà rende un po' scomodo secondo me il raggiungimento di alcune parti laterali ad esempio quando si attiva l'indietro bisogna prendere proprio la parte esterna perché se parti dalla zona visibile che hai subito sotto il pollice rischi di non riuscire a farlo quindi devi fare questo movimento, ti devi solo abituare, niente di che ecco però non mi fa impazzire come soluzione, continua a preferire gli schermi dritti e poi una particolarità che ho notato è che secondo me la luminosità di picco non è proprio al pari di quella degli attuali top di gamma di Samsung o di Apple perché sotto forte luce diretta quindi di giorno all'aperto questo mi è sembrato un po' meno visibile però complessivamente sicuramente un ottimo schermo oggi il mio obiettivo è parlarvi del Huawei P50 Pro e questo include le caratteristiche hardware, le varie funzioni ma ovviamente anche l'esperienza d'uso e allora inizio col dirvi che in realtà la fase di attivazione mi è sembrata veramente molto normale anche rispetto a ciò che ricordavo da precedenti smartphone di Huawei e questo non stupisce perché dovete pensare che alla fine di base rimane sempre Android, che l'interfaccia è sempre curata da Huawei quindi il launcher e tutto il resto per cui in sostanza ciò che nel corso degli anni è cambiato è stato il passaggio dai servizi di Google e Play Store ai Huawei Mobile Services con l'App Gallery ora questa cosa non è del tutto indolore, questo è chiaro, però per dire già in fase di attivazione potete importare i vostri contenuti da uno smartphone che sia iOS o Android e da lì avrete per esempio vari contatti, calendari eccetera all'interno dei Huawei Mobile Services ci sono come al solito 5 GB di spazio gratuito, poi potete acquistare dei piani, abbiamo il servizio di backup online, foto, il drive, le solite cose insomma alla fine non cambia niente, semplicemente siete all'interno di un altro ecosistema i cambiamenti si notano di più quando si va ad utilizzare l'App Gallery e quindi si cercano le applicazioni ora in realtà diciamo che non ottenere proprio una risposta nella ricerca all'interno dell'App Gallery è piuttosto difficile perché nella maggior parte dei casi un software, un'app si vede però non tutte le risposte sono uguali perché ci sono ad esempio quelle che hanno il pulsantino installa e questo ci fa capire che si tratta di applicazioni native dell'App Gallery e da lì si installano ovviamente come normalmente si fa ma ce ne sono delle altre che hanno il pulsante ottieni in quel caso cosa succede? va ad aprirsi il browser con la possibilità di scaricare l'appk da una fonte sicura non è proprio bellissimo, è chiaro però dal punto di vista poi operativo non è neanche una roba particolarmente complessa insomma da lì si scarica e si installa bisogna giusto avere il passaggio di attivare la possibilità appunto di installare le app dal browser però non è una cosa particolarmente complicata insomma giusto un po' scomoda, quello sì una cosa è che però ci sono anche delle app che non funzionano neanche con l'appk o hanno delle limitazioni vi faccio due esempi che ho notato personalmente allora intanto le applicazioni di Google che richiedono i servizi di Google preinstallati e funzionanti nel dispositivo qui non girano quindi la soluzione qual è? viene creata una web app che alla fine rimanda all'apertura del browser ma avrà comunque la sua icona nella schermata home altra limitazione che ho trovato ad esempio con Netflix i contenuti vengono riprodotti in qualità SD per questioni insomma di certificati e via discorrendo insomma qualche limitazione qua e là si riscontra senza un vero di dubbio ma devo anche ammettere che durante il mese circa in cui l'ho utilizzato non c'è stata una cosa che non sono riuscito a fare sostanzialmente e arriviamo finalmente a parlare del comparto fotografico che come sapete qui è realizzato in collaborazione con la prestigiosa firma Leica e quindi lo storico brand fotografico tedesco abbiamo una soluzione nella zona posteriore che dal punto di vista estetico a me piace molto perché ricorda le vecchie fotocamere biottiche però ovviamente è solo una questione estetica perché per dire il cerchio superiore racchiude già tre dei moduli fotografici e poi ne abbiamo un quarto in quello inferiore la fotocamera primaria è una 50 megapixel con un obiettivo che ha luminosità f1,8 poi tutto quello che potete immaginare stabilizzazione, messa a fuoco super veloce il video in 4K insomma solite cose ovviamente in standard di qualità alti e poi l'obiettivo ha una lunghezza focale equivalente dichiarata di 27 mm la mia impressione però è che in realtà sia un pelino più stretta più vicino ad un 28 mm che poi sarebbe anche più in linea diciamo a quella che è la tradizione fotografica insomma questo cosa significa? che se arrivate da uno smartphone che ha una focale un po' più aperta in termini di angolo di campo solitamente da 26 mm qui notate che le immagini sono un pochino più strette diciamo che dovete fare un passettino indietro per capirci però ci si fa l'abitudine abbastanza in fretta ora la differenza secondo me che notate in questo smartphone è proprio nell'aspetto generale delle fotografie ovviamente c'è tutta la sezione pro se volete intervenire manualmente sui parametri ma sono molto belle così come escono in maniera naturale quasi mai ho dovuto applicare dei miglioramenti perché hanno un carattere piuttosto forte può non piacere per carità è questione di gusti però hanno comunque della personalità non sono le classiche foto da smartphone abbastanza slavate è un qualcosa che come dicevo ha una sua personalità e quindi onestamente mi è piaciuto perché ti dà un po' la voglia anche di andare lì a fotografare e poi una cosa da non sottovalutare è che su questo smartphone quando voi che ne so impostate il bianco e nero non state togliendo saturazione alla fotocamera principale che è a colori no, c'è un altro modulo fotografico interamente dedicato al bianco e nero è un sensore da 40 megapixel qui l'ottica sempre da 27 mm equivalente ma ha un'apertura f1,6 e avendo un sensore monocromatico non ha le microlenti che filtrano per i classici colori RGB quindi con il pattern Bayer e questo consente di andare ad aumentare quindi ciò che riesce a catturare il sensore e soprattutto anche a ridurre il rumore digitale in fase di demosaicizzazione e quindi a rendere anche più omogenei più completi i passaggi tonali nelle sfumature di grigio è un qualcosa che è unito ad uno sviluppo da parte di Leica molto sapiente e ci porta delle immagini che hanno veramente un bellissimo look ripeto così come escono naturalmente dalla fotocamera è stato un peccato che mi sono ricordato di questa fotocamera proprio negli ultimi giorni della mia recensione quindi l'ho utilizzata poco perché in realtà ho notato e vi dico secondo me è la più divertente del gruppo poi abbiamo anche una classica ultra wide 13 mm in questo caso abbiamo un sensore da 13 megapixel la qualità non è stupefacente nel senso che di giorno alla fine sì va piuttosto bene ma quando c'è poca luce neanche proprio al buio impasta moltissimo c'è un forte intervento di riduzione del rumore digitale che crea questo effetto pastello insomma non è particolarmente bella quando andate a guardare l'immagine nel dettaglio però la cosa interessante è che si è mantenuto il carattere anche dal punto di vista cromatico che abbiamo sulla fotocamera principale quindi c'è comunque questo bell'aspetto dal punto di vista proprio generale della fotografia a meno che appunto non si vada proprio ad analizzare nel dettaglio ci sia poca luce sono comunque delle belle fotografie e poi abbiamo la fotocamera periscopica la tele che è una 95 mm equivalente con un sensore da 64 megapixel qui l'apertura scende ad f3,5 abbiamo un'ottima stabilizzazione ottica che devo dire funziona davvero bene difficilmente vi trovate ad ottenere una fotografia mossa se fate un po' di attenzione poi c'è anche uno zoom digitale fino a 100x che onestamente non avrei proprio messo perché è un crop di questa fotocamera che già di per sé ha una qualità inferiore rispetto alla primaria croppando, croppando fino a questo livello che praticamente sarebbe un 270 mm equivalente si vedono i pixeloni quindi ha poco senso però utilizzata la sua focale nativa di 95 mm ha sicuramente degli ottimi risultati per chi vuole fare delle fotografie a distanza è una grandissima cosa io non sono un amante diciamo di questo tipo di fotocamere le utilizzo poco durante il test ovviamente mi sono sforzato un po' di più a radoperarla qua e là però devo dire che anche questa per esempio quando la luce non è proprio eccelsa inizia a creare questo effetto un po' ritratto ad olio che non è bellissimo però ricordiamoci sempre che stiamo parlando di uno smartphone non ho molto da dire sulla fotocamera frontale che con i suoi 12 megapixel alla fine se l'è sempre cavata piuttosto bene insomma in condizioni di controluce poca luce ha portato a casa un risultato abbastanza dignitoso però non c'è dubbio che nel comparto fotografico ci sia l'aspetto di maggior richiamo di questo smartphone che non dico che non abbia altre caratteristiche positive anzi il bel design l'ottima costruzione la buona batteria il validissimo schermo insomma tante cose sono sicuramente positive ma come in altri top di gamma quindi probabilmente proprio questa firma Leica è l'elemento che la distingue in maniera più netta e quindi uno si deve giustamente chiedere però se abbia effettivamente un apporto considerevole dal mio punto di vista come vi dicevo non è una questione prettamente di qualità in termini assoluti del termine quindi non so di analisi della fotografia pixel a pixel per vedere qual è più incisiva quella che mantiene meno la qualità con poca luce e via riscorrendo no, la cosa che ho notato qui onestamente è un'altra cioè il fatto che quando scattate un'immagine avete qualcosa che è già più simile all'idea di fotografia con delle proprie caratteristiche abbastanza evidenti anche nello sviluppo poi magari ecco fate una fotografia con qualsiasi altro smartphone vi esce completamente insipida ma sapete come può sprodurla per ottenere un risultato simile a questo magari migliore per i vostri gusti per carità però di base qui veramente riuscite a fare delle fotografie in maniera molto semplice che hanno un bel look assolutamente un ottimo look quindi nel complesso onestamente quello è un aspetto che io ho trovato molto positivo poi è vero ci sono anche delle cose negative per carità per dire il fatto che manchi il 5G come dicevo può pesare di più o meno a seconda delle persone per me molto meno assolutamente però è oggettivamente una mancanza e poi anche il discorso del prezzo tutto sommato perché come ci si può aspettare da un top di gamma oggigiorno costa più di 1000 euro però se aggiungiamo anche il fatto che manca il Play Store che per molti oggettivamente è un deterrente forse un prezzo d'acquisto un pochino più basso avrebbe consentito di buttarci un pochino più facilmente diciamo così però anche lì per il discorso del Play Store sostituito dall'App Gallery e dai Huawei Mobile Services è una questione molto personale non posso dirvi io qual è la soluzione migliore per voi ma potete sicuramente mettere sul piatto della bilancia le varie cose e decidere quello che vi interessa di più io personalmente vi posso dire che mi sono divertito molto ad utilizzarlo la fotocamera in generale tutto il comparto fotografico è quello che ho utilizzato e apprezzato di più senza ombra di dubbio ma poi tante altre cose nel quotidiano mi sono assolutamente piaciute grazie a Huawei per avermi dato la possibilità di provarlo ma soprattutto grazie a voi per aver visto la recensione e alla prossima ciao